Salve e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le interviste. Quest'oggi la nostra rubrica ospiterà un personaggio di sicura rilevanza, il giornalista Salvatore Lopresti, con il quale vogliamo parlare del problema legato al sport per quanto concerne il coronavirus che ha bloccato praticamente tutte le discipline sportive, compreso il calcio, lo sport sicuramente più amato che muove tantissimi milioni di euro. Con lui però vogliamo parlare di sport a 360 gradi, dunque con le ripercussioni che il coronavirus sta portando al panorama sportivo o nazionale e internazionale. Grazie Salvatore di essere con noi in questa videochiamata. Buonasera a te e a tutti i telespettatori e a tutti gli sportivi marsalesi. Certo il coronavirus ha, oltre a sconquassare le abitudini di vita degli italiani, ha provocato grossissimi disagi anche al mondo del calcio, a quello che è lo spettacolo preferito degli italiani, lo sport è lo spettacolo preferito degli italiani. Probabilmente sul calcio giocato neanche l'ultima guerra aveva provocato danni talmente forti, perché tutto sommato i campionati, anche se con formule miste, diverse, geograficamente organizzate in maniera diversa, si era quasi sempre giocato. La sosta vera e propria era stata sia no di un anno. Qui siamo ormai ad alcuni mesi in attività completa e non si sa quando si potrà riprendere, se si potrà riprendere, se il campionato potrà arrivare alla giusta, alla tanto auspicata conclusione. È quello che le autorità calcistiche e soprattutto la Lega e la società stanno cercando di fare, di evitare una fermata globale, una cancellazione della stagione, ma ancora non ne siamo certissimi. Anche se le ultime notizie sulla base della diffusione del virus e del calo dei contagi lasciano qualche spiraglio di ottimismo. Tutto è in mano ovviamente ai numeri, è in mano ai medici, e alle autorità sanitarie che sono loro che devono dare eventualmente l'autorizzazione a riprendere, sia a porte chiuse che con gli spettatori in campo. Una soluzione secondo me ancora abbastanza lontana, quest'ultima. L'UEFA sta cercando in tutti i modi di privilegiare i campionati nazionali e la conclusione delle coppe, perché proprio le coppe, la Champions League in particolare, è quella che assicura all'ente europeo i maggiori proventi, i proventi che serviranno ovviamente anche a garantire un futuro alle società meno forti economicamente per i prossimi mesi e soprattutto le prossime stagioni. Ha sacrificato come era prevedibile l'europeo facendolo slittare di un anno e sta cercando di rendere i regolamenti il più elastici possibile in maniera da adattarsi a quelle che saranno le disposizioni dell'Istituto della Sanità. Però tutto dipende ovviamente da quello che diranno i medici, le autorità governative in relazione alla pericolosità non solo per gli atleti ma anche per i tifosi, per gli spettatori, perché concludere il campionato a porte chiuse sarebbe una vittoria di Pirro sarebbe tutto sommato una cosa abbastanza triste, anche se ci saranno le televisioni che potranno portare lo spettacolo nelle case dei tifosi. Ma giocare senza pubblico negli stadi oltre che rendere scarso lo spettacolo è abbastanza negativo anche per l'entusiasmo dei giocatori che di questo spettacolo devono essere protagonisti. Bene, dottore Lopresti, a questo punto che ripercussioni ci sono soprattutto per gli sport minori e le categorie inferiori per quanto concerne il calcio, mettendo un po' da parte il business legato al calcio di un certo livello, cioè quello della Serie A e alla sfera internazionale con i colossi del mondo calcistico. Gli effetti del coronavirus sulla stagione saranno ovviamente, come dicevamo, piuttosto pesanti, ma saranno pesanti anche sul prosieguo dell'attività calcistica. Innanzitutto ci saranno molte società che soffriranno molto della mancanza degli ingaggi, perché se i grossi club come la Juventus, l'Inter, il Milan, la Fiorentina, eccetera, potranno andare avanti, lo stesso Napoli, certamente, potranno andare avanti senza grossissime preoccupazioni, facendo qualche piccolo sacrificio e qualche aggiustamento ai loro bilanci, le società di provincia soffriranno moltissimo. Ne risulterà ovviamente sconvolto anche la campagna acquisti, perché tanto è vero che si parla di una campagna acquisti prolungata, che durerà probabilmente da quando si aprirà fino alla fine dell'anno, non alla fine dell'estate. Anche per i giocatori non sarà facile, per i grandi campioni sicuramente troveranno sempre i loro lauti ingaggi, ma i giocatori della fascia medio-bassa troveranno anche difficoltà a trovare un ingaggio. E per questo l'atteggiamento dell'Associazione Calciatori, dopo la prima proposta della Lega di tagliare quattro mesi di stipendi, è stato abbastanza duro, perché anche se è sembrato un po' ingrato da un certo punto di vista, probabilmente l'atteggiamento dell'Associazione Calciatori si riguarda più che altro i giocatori di fascia medio-bassa, non i grandi campioni, che il loro contratto lo strappano sicuramente sempre con una certa facilità. E poi bisogna pensare anche ai posti di lavoro che si perderanno, bisogna pensare alla Serie B, ma soprattutto alla Serie C, ai campionati dilettantistici, dove sicuramente ci sarà un'ecatombe di società e un'ecatombe ovviamente di posti di lavoro. Quindi le conseguenze saranno sicuramente pesantissime per tutto il movimento calcistico ed è per questo che anche la FIFA, l'UEFA, il CONI, tutte le organizzazioni che presiedono all'attività sportiva si stanno dando da fare per cercare un ancora di salvataggio, un paracadute per lo sport che dai contratti degli sponsor e dei diritti televisivi trae meno proventi di quanto non lo trae il calcio di vertice. Ricordiamo, il calcio di vertice è un'industria che produce spettacolo e rappresenta oltre un punto e mezzo del PIL del nostro paese. Quindi questo fa pensare quanto sia, fa immaginare quanto possa essere la sua dimensione. Però la realtà sono quei cinque passamilioni di tesserati del calcio giovanile e del calcio dilettantistico che ovviamente troveranno difficoltà non solo a trarre degli emolumenti dalla loro attività ma addirittura ad avere le possibilità di praticare il loro sport. C'è da auspicare che questa emergenza finisca presto e ci sia il tempo per riorganizzarsi e rimettere in sesto la macchina del calcio che non è, ricordiamo, il calcio dei divi, il calcio dei grandi club ma è il calcio che praticano i nostri giovani. Buonasera a te e a tutti. Grazie a tutti.